Sarà allestito persino un maxi schermo ad Adrano domani per la partita contro l'Alcamo Gara 2 della finale playoff che potrebbe decretare già domani il salto di categoria oppure allungare la sfida con un'altra tappa. La richiesta della società adranita è stata accolta favorevolmente dall'amministrazione comunale che finanzierà l'allestimento del grande monitor nell'area mercatale della villa comunale in prossimità del Palatenda che alle 18 vedrà scendere in campo le due squadre. Nessuno vuole mancare all'appuntamento di domani e per questo durante gli allenamenti tutti hanno dato il massimo. Anche gli infortunati dell'Alcamo hanno fatto di tutto per rientrare in squadra in occasione di finale 2. Watch Ferrara si è visto quasi costretto a rinviare la scelta dei 12 convocati dopo che l'infermeria si è completamente svuotata. Recuperati quindi anche l'esperto play Marco Russo Tiesi e il giovane Cristiana Grusa disponibili pure Ferrara e Ventimiglia. E' chiaro che tutti vogliono esserci per quella che si preannuncia un'emozionante battaglia. Le mie scelte saranno lucide, dice Ferrara, ma anche sofferte. Il grande obiettivo è dietro l'angolo e nessuno vuole tirarsi indietro oppure abbassare la guardia. Dopo il 98 a 55 dell'andata alla tenso struttura di Adrano sarà un'altra musica e tutto probabilmente, conclude Ferrara, si deciderà negli ultimi minuti. Il basket maschile alcamese è un solo precedente in quel di Adrano e risale al girone H della Serie C nazionale stagione 2009-2010. Alle falde dell'Etna fu allora Virtus Alcamo a centrare il successo per 101-87 ottenendo così la salvezza a scapito degli Adraniti. Ma in una gara come quella di domani in cui si gioca il tutto per tutto, le statistiche e i pronostici lasciano il tempo che trovano. Intanto all'insegna della sportività previste diverse iniziative collaterali da entrambe le formazioni. Il primo cittadino di Adrano, prima del match, ha organizzato per i sostenitori della Lipari Consulting una visita guidata gratuita al castello, al museo e al teatro. Gli alcamesi, dal canto loro, porteranno in omaggio agli avversari, cestisti, allenatori e dirigenti il tipico vino di queste terre, il bianco d'alcamo doc offerto da una nota azienda vitivinicola.